Si è tenuta questa mattina la prima riunione del tavolo tecnico-scientifico per l'avvio della progettazione esecutiva per la bonifica superficiale e la rimozione dei numerosi rifiuti speciali e pericolosi presenti nel sito. Al tavolo l'Istituto Superiore di Sanità e il Consorzo Interuniversitario, il Cugri, di cui fanno parte l'Università Federico II di Napoli e l'Università degli Studi di Salerno. L'appuntamento di oggi è servito ad avviare il progetto di bonifica superficiale. Si comincerà dagli interventi più rapidi come lo smaltimento dei cubi, 30 ricordiamo sono stati già eliminati, e dalla messa in sicurezza del primo lotto. Nei prossimi incontri verrà stabilito anche come procedere rispetto al ritrovamento di alcune aree ben circoscritte che contengono terreno contaminato da fibre di amianto, volumi per circa 350 metri cubi e altri contaminanti nella falda che riguardano essenzialmente idrocarburi e cloruri. La scoperta di questi altri agenti presenti nel sottosolo impone ulteriori approfondimenti, serviranno indagini per stabilire l'esatta circolazione delle acque, nel caso in cui, inoltre, la sorgente fosse esterna all'isochimica, allora si aprirebbe un capitolo che coinvolge l'intera area. A tal proposito, l'assessore Penna chiama in causa l'ASI. L'ottimo consorzio, dice, di recente ha avuto dei finanziamenti regionali, quindi potrebbe promuovere uno studio di area allargato per capire quali sono i valori di fondo di questi contaminanti nell'area.